ciao a tutti con il video di oggi vorrei fare una carrellata di tutte le collane che abbiamo fatto insieme in questi anni lunedì scorso ho fatto il tutorial di questa collana che vi è piaciuta moltissimo e mi avete chiesto ma potremmo fare anche un collarino ma potremmo fare anche un tipo di collana con le perline i fiori e quindi ho pensato di rimostrarvi la collezione che abbiamo fatto fino a qui in modo che magari può esservi utile per andare a ripescare dei vecchi tutorial di tutti i pezzi che vi mostro oggi vi lascio i link ai tutorial nella descrizione del video e in ogni caso ho fatto anche una playlist con tutti i tutorial di gioielli ad uncinetto le collane ma anche gli anelli i braccialetti le cavigliere tutto quello che ho fatto finora e che farò anche in futuro per quanto riguarda i gioielli ad uncinetto ora ve le mostro da vicino una ad una e poi voi se volete mi lasciate un bel messaggio scrivendo qual è quella che preferite e se avete fatto già alcune di queste collane condividete le vostre foto con me taggatemi in instagram o nel mio gruppo facebook perché adoro vedere i vostri lavori e poi è sempre bello vedere anche le reinterpretazioni dei tutorial oppure i colori che avete usato insomma amo vedere i vostri lavori quindi condividete le vostre foto con me e taggatemi la prima che abbiamo fatto insieme è questa e vi è piaciuta tantissimo questa è una collana aperta alle cadute libere non è chiusa in cerchio è una riga di catenelle lunga quanto volete a seconda di quanti giri volete che faccia la collana intorno al collo e quanto lunghi volete i giri lo schema è semplicissimo super ripetitivo è semplicemente una catenella e poi alterniamo questi fiorellini alla distanza che preferiamo e le perline di tutti i tipi che preferiamo super semplice super veloce però molto d'effetto quando le indossiamo sullo stesso genere poi abbiamo fatto questa è sempre una collana con le cadute aperte sempre fiori e perline però questa volta è una doppia catenella collegata anche qui alterniamo perline di diversi tipi e questi fiorellini diversi con questo schema vi ho fatto anche gli orecchini e poi abbiamo fatto questa questa è una collana chiusa la fate lunga quanto volete a seconda di quanti giri anche qui che volete fare la mia fa due giri intorno al collo è una collana autunnale con queste foglie tipo foglie di acero anche questo è una doppia catenella però di due colori diversi con fattura diversa una è una catenella semplice e una è un po più elaborata e poi a queste foglie bellissime il tutto impreziosito da diversi tipi di perline anche qui ovviamente libero sfogo alla fantasia esplorando generi completamente diversi poi abbiamo fatto questa collana insieme questa catena anche questa con le perline un po più laboriosa perché comunque ci vuole un po più di tempo per lavorare tutta la catena però molto molto bella o almeno secondo me è molto bella voi fatemi sapere cosa ne pensate questa è una collana che io amo particolarmente se mi seguite da un po lo sapete amo il mare e qui c'è tutto il mio amore per il mare con questa collana poi vi ho insegnato anche come incastonare pietre o conchiglie con la lavorazione ad uncinetto perché sia la conchiglia che questi vetri sono appunto incastonati nella lavorazione ad uncinetto in questo modo possiamo poi con un anellino agganciarli a una collana un bracciale è quello che vogliamo questa cosa vi devo dire credo forse che sia il progetto meglio riuscito nel suo genere è una collana torsion e la trovo bellissima sia nella parte del tubolare che nella parte centrale proprio del torsion ed è semplicissima da fare molto divertente rilassante perché a parte qui che bisogna un po contare diciamo così almeno quando inseriamo le perline ma qui è tutto casuale e più è casuale e meglio viene questo anche mi piace tantissimo è un collarino semplice veloce da fare con tutte le perline io le ho messi di legno ma voi ovviamente potete farlo molto più elegante usando svaroschi o comunque perle le perline che vi piacciono di più sul davanti sul collo viene così e poi dietro ci sono queste cadute che scendono sulla schiena e si aggancia con questa perlina super super pratico bello perfetto per l'estate l'ultima nata della collezione è questa e la collana in realtà la potete fare come volete io vi ho dato solo un'idea il tutorial più che altro era fatto per farvi vedere come fare questi ciondoli mandala e anche qui possiamo usare tutti colori che ci piacciono di più mettere le perline o anche non mettere le perline in questo caso per esempio non ho messo la perlina al centro e nel primo giro anziché lavorare un giro di mezzi punti alti ho lavorato un giro di punti alti questa è l'unica differenza così il centro viene chiuso e non ho messo la perlina che invece ho messo in questa e nel tutorial che vi ho fatto fatemi sapere qual è la vostra preferita e se ne volete delle altre e se volete che facciamo altre collane insieme fatemi sapere che tipo di collana vi piacerebbe che facessimo insieme collane bracciali anelli tutto quello che riguarda il mondo dei gioielli ad uncinetto come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo video e di averlo guardato fino alla fine e vi ringrazio moltissimo di tutti i vostri bellissimi messaggi che adoro leggere non sempre riesco a rispondere a tutti ma vi assicuro che mi impegno e faccio del mio meglio noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio ciao